Rosari è studiata la misica, e Rosari per poco non so che diceva la laurea di misica e ha detto che un cammino ficcato di una raffolta e ha detto che questa gente ha dato risultati e lui ha dato risultati ha detto che quella è quella di una raffolta e lui ha dato che questa contratta e questo è l'azzo del gioco e lui ha detto che non si sapeva risultati e lui ha dato risultati e lui ha dato risultati Grazie.